Sì, non scendono, non è per me, si hanno conteso la natura sia la natura, questo si chiama certificato di cittadini, che non è necessario, è la mia città, grazie, 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 grazie. Certificato da merito al papefetto di un pinocchio, la valida, la vita, 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 la Questo è, diciamo, il trattore di questo, lui è quasi perfettamente simile. Questo è un'attività di collo. Il trattore è veramente vivito a 360 gradi. E' una colorazione non necessariamente accesa e vistosa, però nello insieme. E' un'attività di collo.